Cari amici, poesia neoterica, poeti neoterici. Dietro questo attributo dal sapore esotico si cela una cerchia di poeti che operarono a Roma nella prima metà del primo secolo avanti Cristo. Una corrente letteraria dunque, ma anche una societas amicorum, un po' come quella che nel 200 avrebbe legato Dante, Lapo Gianni, Cino da Pistoia e gli altri stilnovisti, un gruppo di amici insomma che anche nelle loro poesie si citavano e richiamavano l'un l'altro. I loro nomi a pronunciarli non suonano arci noti nel panorama della letteratura latina, Elvio Cinna, Furio Bibaculo, Licinio Calvo. Tuttavia rivestono una enorme importanza nella storia della poesia latina ed è per questo che ritroviamo nei nostri manuali di letteratura per almeno due motivi fondamentali. Innanzitutto perché la loro poetica rappresenta il punto di arrivo di una tendenza non solo letteraria ma più genericamente culturale che si era manifestata a Roma da decenni, almeno dai tempi di Lucilio. E in questo senso possiamo dire che i Neoteroi sono un po' come una boa, il momento di arrivo di un percorso dopo il quale la poesia latina compie una virata e non sarà più la stessa. Ma c'è anche un secondo motivo per cui i Neoteroi sono così importanti nella storia della letteratura latina perché alla loro corrente è tradizionalmente associata la personalità e l'arte di Catullo. Andiamo quindi ad approfondire lo stile e la poetica neoterica incominciando proprio dall'etimologia e dal significato di questa esotica denominazione. Dunque quando diciamo Neoteroi o alla latina Poete Novi non ci rendiamo conto dello sprezzante sarcasmo che si cela dietro questo aggettivo. La formula risale infatti a Cicerone, il quale coniandola intendeva marchiare in senso negativo questa nuova appunto poetica che era, come stiamo per vedere, portatrice di un messaggio del tutto opposto a quello conservatore e tradizionalista di Cicerone, non solo in fatto di letteratura ma anche di etica. Per questo motivo trovo personalmente che la migliore traduzione di Neoteroi Poete Novi sia quella che ho letto nel manuale di Italo Mariotti il quale li chiama gli aggiornati, termine che si presta molto in italiano a rendere quel sottile sarcasmo che Cicerone voleva trasmettere. Ma in cosa consisteva questa novità? Insomma in cosa esattamente questi poeti erano aggiornati? Possiamo rispondere che la loro novità si manifesta sotto due aspetti, uno inerente alla vita e l'altro alla letteratura. Ecco, tenete sempre ben presente questo binomio modernissimo, peraltro direi anche molto dannunziano, perché nei Poete Novi vita e arte, vita e letteratura sono un tutt'uno coerente. Il loro stile di vita infatti e i loro ideali si riflettono in un certo modo di fare poesia, precisamente nell'idea della funzione che la poesia dovesse avere, dei contenuti che dovesse trattare e anche dello stile e della forma in cui dovesse essere scritta. Analizziamo dunque uno per uno questi aspetti. E incominciamo proprio dall'etica, dagli ideali di vita, un'etica di vita aggiornata e questo è forse l'aspetto che creava più prurito in Cicerone. Vi ho detto all'inizio che la poesia neoterica segna il punto di arrivo di una tendenza culturale incominciata almeno dai tempi di Lucilio e del circolo scipionico. Ecco, questa tendenza culturale ha nome individualismo e si sostanzia nell'idea che l'individuo con i suoi diritti, le sue personali esigenze, le sue peculiari predilezioni ed inclinazioni meritasse uno spazio maggiore di quello che era destinato al civis e ai suoi doveri. A noi può sembrare cosa ovvia, ma vi assicuro che nella società romana di quel tempo non lo era. Homo versus civis, diritti dell'individuo versus doveri del cittadino. I bisogni dell'individuo dovevano prevalere su quelli della res pubblica. L'ozium, il tempo libero da dedicare ai propri personali interessi e anche alla letteratura, l'ozium letterario, importante in questo caso visto che stiamo parlando di poeti, meritava una considerazione maggiore del negozium, cioè dell'impegno nella vita civile e politica. Essi infatti snobbarono completamente la realtà politica contemporanea che, fra l'altro, per chi non fosse invischiato in essa per interessi economici e personali era una realtà caotica, alienante, che provocava sgomento, spavento. Ricordate, siamo in pieno primo secolo a.C., periodo delle guerre civili, Roma era sconvolta da bande di plebaglia contrapposte le une di parte cesariana e l'altra di parte pompeiana. Insomma, è normale che in tutti i frangenti storici del genere, spiriti particolarmente sensibili e coltivati provino un senso di alienazione dalla società, si sentano sperduti e provino quindi a cercare rifugio altrove. Ecco anche spiegata la fortuna dell'epicureismo, che proprio in quegli anni propugnava anch'esso il disimpegno politico, condannava l'ambizio e predicava il late biosas, vivi nascosto. Ricordate che in quei decenni Lucrezio stava scrivendo il Dererum Natura, il grande poema epicureo. E come vi dicevo prima, i neoteroi coerenti nella vita e nell'arte. Il disimpegno politico disprezzato nella quotidianità, ma anche in letteratura, l'attualità contemporanea infatti non era contemplata come tema della loro poesia. Ma approfondiamo con un'altra lavagnetta questo fondamentale aspetto della funzione e dei contenuti della poesia neoterica. Secondo i neoteroi, la poesia non doveva occuparsi di attualità civile, di storia, per il semplice motivo che la sua stessa funzione non era civile o socialmente impegnata. La tragedia, ricordate, serviva a trasmettere gli ideali oligarchici, la storiografia, l'epica servivano a mantenere vivo il ricordo dei grandi personaggi e dei valori romani del buon tempo antico. Per i poete novi però non era questa la voce delle muse, anzi. Cacata carta, non c'è bisogno di tradurre questo, il felice appellativo trovato da Catullo nel famoso Carme 36 per definire gli annales di un certo volusio. E sicuramente ai neoteroi non potevano piacere quei volumoni di storia, di epica, migliaia e migliaia di versi scritti peraltro in un linguaggio trombonesco e altisonante che al loro gusto raffinato doveva sapere di putredine. E Catullo ha saputo mettere bene in chiaro l'uso che ne avrebbe fatto. Ma allora, se non era questa la poesia, che cos'era effettivamente per i neoteroi e quale funzione aveva. Un passatempo colto per uomini raffinati e amanti delle belle lettere. Inizia ad affermarsi nella cultura romana il principio dell'arte per l'arte. Non è necessario che l'attività letteraria sia collegata a quella politica, teoria strenuamente difesa in quegli anni da Cicerone. La poesia aveva valore in sé. E non date per scontato questo concetto che a noi moderni sembra piuttosto ovvio ma che non lo era nella Roma repubblicana, nella quale poetare e filosofeggiare non erano considerate attività decorose per il buon civis. Se dunque questa era la funzione della poesia, anche il suo contenuto doveva coerentemente essere di ispirazione squisitamente soggettiva. E di poesia soggettiva vi ho già parlato a proposito delle satire di Lucilio. Pertanto le tematiche potevano variare dall'amore, naturalmente pensate solo a Catullo, all'etica personale, alla vita mondana dell'urbe, alla satira di ispirazione soggettiva, ma anche all'erudizione preziosa, alla mitologia, non però come usava fare l'epica con tono roboante, ma sempre tutto trattato con leggerezza, con grazia, con eleganza. E avendo parlato di grazia ed eleganza, mi è agevole passare a parlare di quelli che sono forse i due tratti più caratteristici della poesia neoterica, cioè la tipologia di generi letterari utilizzati e il loro stile. Il principio dell'arte per l'arte e il rifiuto della funzione civile e sociale della letteratura portano all'abbandono dei generi letterari tipicamente associati a tale funzione, quindi in particolare epica, storiografia e tragedia. Quali generi quindi si affermano a sostituire questi? Nuove forme, tutte di importazione greca, componimenti di piccole dimensioni ma estremamente curati dal punto di vista formale e stilistico. L'epigramma, per esempio, l'epiglio, cioè il poemetto mitologico in miniatura, i carmi brevi in metro vario, come quelli del Liber di Catullo, l'elegia, generi letterari diversi che pur nella loro varietà possiamo racchiudere sotto due denominatori comuni, piccolo e bello, brevitas e ars. Un binomio tipico della poesia alessandrina e callimachea a cui i neoteroi si ispirano, ma anche un binomio squisitamente greco e che, non a caso, era quello che aveva presieduto all'origine della polis. La poesia neoterica è dunque fatta di piccoli preziosi gioielli, destinati non a tutti ma solo ad un pubblico colto che avesse la raffinatezza e il buon gusto per apprezzarli. Pensate solo alle parole con cui Catullo, nel celebre Carme I, descrive il suo Liber di poesie. Piccolo, bello, levigato di fresco con la pomice, quindi piacevole già nelle sensazioni tattili e visive e il cui aspetto prelude alla bellezza del contenuto. Ora, in che modo i neoteroi riuscivano a raggiungere tale altissimo livello di elaborazione stilistica e formale, adottando due tecniche compositive fondamentalmente, il Labor Lime e la selezione delle idee. Il primo lo dice il nome Lavoro di Lima e se avete già studiato Petrarca dovrebbe risultarvi familiare perché è notoriamente il modus operandi che sta alla base della composizione del suo canzoniere. Limare, levigare, perfezionare, ritornare infinite volte sullo stesso passo ricercando la bellezza dell'idea e la musicalità del verso. Un lavoro lungo, di cesello, di fino, anche mentalmente usurante da veri grandi artisti. La selezione delle idee. Ogni poeta, ogni scrittore, dopo anni di esperienza, ha quello che si suol definire il mestiere, cioè sa come comporre, come confezionare un'opera. Ma è proprio a questo punto che subentra la selezione, cioè non si scrive tutto quello che si saprebbe scrivere, magari soltanto per fare numero, per fare quantità, ma si sceglie soltanto l'idea che ha la capacità di diventare arte. E questo è il senso del famosissimo Carme 95 di Catullo che non a caso è considerato una sorta di manifesto della poesia neoterica in cui Catullo festeggia l'uscita di un poemetto di Elvio Cinna, vi ricordate uno di quei poeti neoterici che vi ho citato all'inizio, dicendo la smirna del mio Cinna finalmente dopo nove anni è uscita, mentre Ortenzio ha scritto 500.000 versi in un giorno solo. Manifesto della poesia neoterica, come dicevo prima, perché vediamo qui chiaramente contrapposte due diverse concezioni del fare poesia. Quella di un Ortenzio, peraltro il futuro grande oratore, che a detta di Catullo rigurgita 500.000 versi in un giorno solo e noi possiamo immaginare quanto questi versi possano essere curati, e invece un Elvio Cinna che impiega nove anni per comporre un piccolo poemetto mitologico. E dopo questa introduzione alla poesia neoterica ne approfondiremo i contenuti e lo stile parlando del suo più grande rappresentante, Catullo, a cui dedicherò i successivi video, che troverete tutti raggruppati nell'apposita playlist. Ciao!